Ciao a tutti, mi chiamo Elena Rotini e sono una studentessa dell'Istituto Luigi Inaudi di Ferrara. Quest'anno sarà una Pasqua davvero particolare. Come passerò questa Pasqua da quarantena? Ovviamente resterò in casa insieme alla mia famiglia. Sarà in qualche modo una Pasqua speciale. Sì, diversa, ma speciale. In questo clima di paura, passarla insieme alla propria famiglia penso sia una grandissima fortuna. È una Pasqua speciale anche perché un clima così bello in questo periodo non si vedeva da anni. Sì, vabbè, tanto non si può uscire. Insomma, con la speranza di tornare presto alla nostra vita normale, auguro a tutti una buona Pasqua. A tutti gli italiani che come me sono chiusi in casa, ma soprattutto a chi è fuori, che rischia la propria vita per salvare la nostra. Buona Pasqua ai miei parenti lontani che sfortunatamente quest'anno non riuscirò a vedere. E buona Pasqua anche a tutti i miei amici. E adesso dai, non ci resta che andare a sperimentare la colomba fatta in casa. Sì, vabbè, però non prometto niente. Grazie. Grazie.